vediamo anche a bigliardino se sono capace è l'arbitro, quello serio, serio, serio arbitro serio vediamo il punto ai giuditi e si aggiudicano un punto 4 pari 4 pari ragazzi si va bene vai giù stanno vincendo ha fatto sopporti vai 5 pari 5 pari andiamo a zero risultato 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 hai firmato tutto provo tutto ok ok firma bene eccolo ecco che metta segno a zero risultato a zero risultato a zero risultato non è che guarda il buchiere oh bravo 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 belisa belisa mamma mia belisa vai ecco 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 ragazzi che stiamo vincendo beh guarda la bandiera decisivo di tutto bravo 1,2,3,4,5 pure 6 bravo bravo entrare e uscita basta ripresa è l'ultima oscuriamo oscuriamo vai fuoco guarda 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 e ancora una volta gli uomini dimostrano la loro superiorità uomini contro donne c'è un target dai 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 guarda è prospero buongiorno buonasera guarda che bella partita guarda 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 è bella partita sono guarda 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 che partito una bella partita vai giù vai giù quelle tecniche cambiamo sport si sveglia un campione ragazzi si segna subito un torneo ehi c'è un muro io gioco pure io io gioco pure io come faccio tutto io come faccio tutto io oddio oddio non mi fai male se è fatta subito la mia manina la tua porta la tua porta riprese non so riprese preparatevi dolce dolce ecco a te ti piace eccolo eh guarda il primo e segna dalla porta allora è bella partita ecco lui così te voglio così te voglio così te voglio ma che così te voglio quanto vale eeeh tre pari adesso si chiama culo che buona stessa tre pari guarda adesso eh ok eccolo no 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 però spero scandalucia passate proprio in 4 3 i punti i punti io non i punti io non se vuoi i punti non ciò che ha invece di fare ma che cazzo abbiamo fatto 12.000 come dai va ciao è vero B no è sta roccato è roccato ma da andarlo giù bravo 4 a 3 4 a 3 e non ci posso dire fai il video guarda qua guarda due loro e qua e noi e non è vero è 4 ne ne vazza la pena ne vazza la pena che cosa vuoi dire a ciò darvi che senta roccato che cosa vuoi dire ? chAao ma cosa vuoi dire cosa vuoi dire Heavenly cosa vuoi dire sì, cosa vuoi dire sì, cosa vuoi dire così cosa vuoi dire